ecco qui mangiavano i clienti bellina venga venga sono già dentro vedo tutto mi viene anche a me quando ero giovane andiamo a guardare la foto insieme dimostra questo me l'ha fatto un cliente e questa la mia mamma e questo è un mobile vecchio vecchio ma bello signora ah sì questo è del 1780 che non vedo